Oggi cominciamo a parlare di controllo del moto, giusto vediamo un attimo a che punto siamo del corso, mi faccio vedere un attimo un po' dove siamo. Allora, parliamo di controllo del moto e dedicheremo tre lezioni al controllo del moto, oltre a diverse esercitazioni, poi dedicheremo altre due lezioni al controllo dell'interazione e ci sarà anche un intervento seminatoriale del professore Righello e o del professor Marino, in base alla disponibilità e in base anche a come evolve un po' la situazione, cercherò di coinvolgerli entrambi o uno dei due. Il controllo del moto è, ecco qua, cominciamo a parlare quindi un po' di controllo del moto, cerchiamo un attimo prima di tutto di inquadrare un po' quello che noi stiamo facendo e di dare un significato alla parola controllo di un robot, perché diciamo questa è una parola che può assumere significati abbastanza ampi o diversi a seconda anche del contesto, nel senso che la robotica è un argomento che è assolutamente trasversale a diverse comunità. Voi sapete che la mia preparazione, la mia formazione è quella di un automatico, per cui il mio bagaglio diciamo di competenze è questo, molte altre comunità che hanno dei profili accademici, quindi diciamo anche di studi differenti, fanno robotica, ovviamente legittimamente e con pieno diritto di farlo. Abbiamo delle atteggiamenti nei confronti della disciplina abbastanza diversi fra di noi. Quindi cerchiamo un attimo di contestualizzare anche un po' il significato della parola controllo del robot. Noi possiamo parlare di robotica a diversi livelli di astrazione. In questo corso voi avete visto fino ad ora equazioni per cui noi siamo andati a un livello abbastanza analitico. Abbiamo fatto la cinematica, la cinematica differenziale, abbiamo visto un po' la dinamica. Abbiamo dedicato due lezioni, però avremmo potuto farne molte di più, perché sono concetti che dal punto di vista di un automatico sono concetti importanti che hanno implicazioni importanti quando si va a progettare un controllo o comunque quando si va ad utilizzare un robot. Avremmo potuto utilizzare, io avrei potuto impostare il corso in maniera diversa, per esempio il prossimo corso a scelta di applicazioni robotiche è meno di basso livello, perché questi concetti li avete già. In realtà se io chiedo a un robot di eseguire un compito con un livello di astrazione alto, la parola controllo è un po' sfumata. Immaginate che io faccia quello che vi ho fatto vedere per esempio in alcuni nostri esperimenti, prendi la bottiglia oppure versa dell'acqua in un bicchiere, apri la porta. Sono delle richieste che già nella descrizione sono a un livello di astrazione alto. Poi devono essere in qualche modo trasformate e decomposte e in livelli di astrazione più bassi, ossia in maniera più analitica, perché poi bisogna arrivare a dare per esempio una traiettoria al robot. Altre richieste possono essere un po' più puntuali, del tipo segui una linea, segui un percorso, magari una linea può essere un percorso geometrico, per cui il livello di astrazione rispetto apri la porta è già più basso e così via. Posso arrivare a dire vai al punto A, che è una richiesta ancora più bassa rispetto a segui quel percorso, oppure proprio a livello di controllo, così come in qualche modo noi abbiamo fatto, oppure devi raggiungere questo accu desiderato al prossimo passo di campionamento. Sono sempre tutte quante richieste che rientrano nel concetto del controllo. E noi quando affrontiamo queste cose le dobbiamo affrontare tutte, nel senso che se io imposto il mio bravo esperimento in laboratorio, in cui devo versare dell'acqua da una bottiglia, è chiaro che a quel punto la richiesta principale è quella più alta, ma io varo fino alla fine in cui do la coppia ai motori o la corrente ai motori. Per cui io devo in qualche modo essere capace di suddividere il problema di controllo ampio in livelli, se volete, di astrazione. Quindi quelli che qui è rappresentato graficamente con questo disegnino, che peraltro ho rubato da un collega, dalle sue slide, è quello che noi quando parliamo di controllo, in maniera più o meno implicita, nel senso che possiamo esserne o meno consapevoli, stiamo assegnando una gerarchia a questi concetti. E quindi abbiamo un livello di astrazione alto fino a un livello di astrazione basso. Cosa cambia? Che vuol dire essere in alto, essere in basso? Io quando parlo di controllo di basso livello, qui si usa il termine diretto, a basso livello, mi piace di più, richiedo precisione al mio robot. Una precisione che, se volete, è decrescente con il livello di astrazione. Mi spiego, se io chiedo al mio robot di che giunto 3 deve assumere il valore di 31,5 gradi, il giunto 3 deve raggiungere il valore di 31,5 gradi a meno della risoluzione, a meno di piccoli aspetti di misura. Però voglio quello. Se io dico al mio robot apri la porta, beh comunque la porta ha un grado di libertà, no? Quindi c'è un angolo. È evidente a tutti che sia 31,5 che sia 33 gradi non è quello che interessa nel giudicare se il compito è stato raggiunto o meno. È importante che la porta sia aperta e quindi che io possa poi attraversarlo. Per cui non è 5 gradi, non è 30 gradi, non è 90 gradi, è un'apertura che sia sufficiente a far passare qualcosa. Per cui è chiaro che la precisione non è l'aspetto importante quando io sono a un livello di astrazione più alto. Che cosa cambia? Cambia un po' quella che viene chiamata in termini che è molto ambiguo, che è la parola intelligenza. Io dico che questo termine è molto ambiguo perché noi assegniamo alla parola intelligenza un significato che è fuorviante quando si parla di macchine o quando si parla di computer. Per cui possiamo dire una maggiore autonomia, la capacità di prendere decisioni, anche questo è molto ambiguo. Quando noi alziamo il livello di astrazione abbiamo un problema anche serio di terminologia. Perché? Perché la parola intelligenza è una parola che è abusata e viene fraintesa, soprattutto da chi non sa cosa c'è sotto gli algoritmi che vengono definiti intelligenti. Diciamo che ci vuole una maggiore autonomia. È anche più difficile per un osservatore prevedere e capire cosa sta per fare il robot, tranne per chi ha fatto il programma, ma a volte neanche per chi ha scritto il programma. Perché se chi ha scritto il programma accetta che ci siano delle scatole nere, vuol dire che neanche lui sarà in grado di fare queste previsioni. Ora, noi dove ci poniamo con questo corso? Perché poi alla fine, diciamo, adesso il vostro obiettivo non è aprire la porta e prepararvi per l'esame. Noi ci poniamo essenzialmente qui, a basso livello. Faremo controllo del moto, controllo dell'interazione. Nel caso in cui qualcuno di voi volesse fare una tesi di laurea, allora ci sono anche delle tesi in cui noi cerchiamo di essere a un livello di astrazione un po' più alto. Allora vi faccio un esempio su alcune cose che stiamo facendo, che forse vi ho fatto vedere quando abbiamo parlato di la differenza tra motion planning e planning e trajectory. In quel caso, diciamo, nel momento in cui io devo trovare una strada per afferrare la bottiglia, già posso dire che mi sto alzando un po' di livello di astrazione. Perché? Perché io sto dicendo al robot, lì c'è la bottiglia, prendi, afferrala. Questo è il comando che noi diamo. E cosa fa il robot? Va per tentativi, ragazzi, non è che i tentativi sono guidati, sono supportati da dei risultati matematici stocastici, non sono analitici. E ci va quasi sempre bene. Un'attività che stiamo facendo adesso, per esempio, è un'attività, l'economia, studente di dottorato, è un'attività legata alla capacità del robot di spostare degli oggetti per afferrare un oggetto che non è apportata. Quindi immaginate una scrivania, immaginate che voi in una scrivania avete, facciamo la finta che sono tutte bottiglie, no, avete 4-5 bottiglie. La bottiglia che dovete afferrare è dietro le altre. A questo punto io utente, che non sono un programmatore, io dico solamente prendi la bottiglia A. Il robot fa i suoi bravi calcoli, vai di tentativo e vede che nessuna traiettoria consente di raggiungere la bottiglia A rispettando i vincoli. I vincoli sono di non urtare le altre bottiglie, di non uspettare il tavolo, i vincoli di fine forza ai giunti. Allora che cosa fa? Beh, può pensare, ed è quello che stiamo facendo, di spostare le bottiglie. È chiaro che posso spostare tutto, cioè nel senso che ho 5 bottiglie davanti e le sposto tutte e 5. È evidente che non è quello che stiamo cercando di fare, stiamo cercando di fare in modo che il robot a questo punto uso il termine impari o capisca o decida. Sono termini con cui non mi sento a mio agio perché sono termini che in qualche modo presuppongono una intelligenza che non c'è. Cioè lui a quel punto che cosa fa? Utilizza sempre delle tecniche di tipo randomico per massimizzare una metrica che gli fa scegliere cosa spostare. E allora la metrica più intuitiva che noi ci viene in mente è il minor numero di bottiglie, ad esempio. Ok? Si può fare anche qualcosa di più complicato, posso dire guarda, quella bottiglia è più pesante, quella bottiglia è più fragile, per cui posso fare delle metriche multiobiettive. È chiaro che questo è un livello di astrazione alta, a quel punto se io la bottiglia la metto a 10 cm, a 12 cm, non mi interessa più. Lo misuro, lo so dov'è, però non è quella la cosa importante. E quindi in quel caso si parla di intelligenza. Quindi il nostro corso rimane al basso livello perché è importante che io capisca come si muove un robot e perché si muove un robot. Le tesi di laurea già cominciano eventualmente ad alzare il livello perché poi, vi ripeto, noi abbiamo tantissime cose che dobbiamo, tante attività che dobbiamo portare avanti in laboratorio e sono, diciamo, paradossalmente, si può anche scegliere, paradossalmente perché, voglio dire, ci abbiamo tante di quelle cose da fare, che alla fine si può anche discutere se abbiamo eventuali tesi di laurea. Ok, questi controlli esistono contemporaneamente e, come dire, cooperano, va bene? Bene, quindi nell'esempio di prima del spostamento della bottiglia, come faccio io a sapere se, diciamo, posso o meno raggiungere la bottiglia? Beh, io lo faccio tramite una simulazione, quindi il robot fisico è lì fermo, prima di muovermi faccio una simulazione e vedo se, diciamo, violo qualche vincolo. Cosa significa fare una simulazione? Beh, significa che io ho nel mio modello matematico il controllo di basso livello e ho il modello matematico del robot. No, sempre i modelli matematici sono importanti, evidentemente sì, lo sono. Quindi, ed è quello che facciamo anche noi, se voi dovete avvitare qualcosa che è sotto il tavolo ed è una posizione che, diciamo, intuitivamente non vi convince, voi immaginate i vari movimenti per raggiungerlo, va bene? E poi magari fate anche qualche tentativo e scoprite che avete sbagliato, però prima immaginate. Quindi, questo è, diciamo, un po' il contesto del concetto del controllo del robot e vorrei anche essere chiaro, questo è il mio punto di vista, vedete, a un collega magari vi dice qualcosa di leggermente diverso. Giusto così, le comunità che lavorano nella robotica, non so se ve l'ho mai fatto una descrizione anche di questo, perché anche questo è importante, cioè se vi piace la robotica non dovete per forza rivolgervi solo a un automatico, perché ad esempio, vabbè, gli ingegneri meccanici, diciamo, danno un enorme contributo nella parte di progettazione, noi non è nel vostro percorso di studi, questo corso è a scelta anche per meccanica d'engineering, per il corso di studi in inglese, e, diciamo, gli ingegneri meccanici sono assolutamente fondamentali nella costruzione, nella progettazione robot. Gli informatici, vada sì, l'informatica, l'intelligenza artificiale e la robotica sono molto vicini, e poi anche, diciamo, i bioingegneri, o anche, diciamo, ultimamente, diciamo, le neuroscienze stanno dando un contributo ad alcuni aspetti, diciamo, legati alla robotica. Sono comunità anche molto diverse, molto diverse fra di loro. E quindi, beh, e quindi nel momento in cui io mi trovo a parlare con tante persone diverse, che hanno delle, delle, un background accademico diverso, beh, ho il problema di dire, fatemi dire così, chi ha vinto la gara, cioè, se io propongo un nuovo controllore, oppure se io dico ho aperto la porta, o qualcosa del genere, cosa, cosa, come faccio a dire, ho fatto bene o ho fatto male? Come faccio a dire se un controllore A è migliore o peggiore che un controllore B? Allora, voi ricordate le specifiche, quando avete parlato di specifiche in fondamenti di controlli automatici. In quel caso, voi che cosa avevate? Avevate un stressare di controllo lineare, un ingresso o un'uscita. Per cui, il vostro bravo scan, retrazione, e avete ricevuto delle specifiche da un, da un utente che diceva, guarda, voglio questa banda passante, che quindi una specifica di tempo, diciamo, di velocità, può essere la banda passante, il tempo di assessamento, il tempo di salita, qualcosa legato al tempo, ok? Poi, e con dei numeretti, per cui voi, una volta fatto il vostro progetto, andate a vedere se la banda era quella che era stata richiesta. Poi, potete avere o meno ricevuto delle richieste sull'errore al regime, quindi anche in quel caso sono dei numeri. Voglio l'errore del 10% del riferimento, oppure che sia 20 cm, assoluto relativo. L'errore durante il transitorio, queste sono le tre, più o meno, la famiglia di specifiche che voi avete ricevuto, con dei numeretti. Per cui avete fatto il vostro controllore, se andate a controllare, controllore, controllare, sul che cosa? Bode, Nyquist, Nichols, il numeretto, va bene, non va bene, allora lo soddisfatto no, passo l'esame o no. Ma adesso, se io ho un descrizione che di per sé, a un livello di astrazione alto, ho delle difficoltà. Quindi, vediamo un attimo facendo il reverse, cioè partendo dal basso. Partendo dal basso, gli errori sono quelli che avete visto voi, in fondamenti di controlli, e poi io ci posso aggiungere qualcosa che, per esempio, se sono in robotica e sto lavorando su un robot mobile, io che cosa posso aggiungere? Qualcosa che è legato alla deviazione dal percorso, quindi senza considerare la legge oraria, ok? Allora, magari, io posso penalizzare che cosa? Beh, io posso penalizzare la massima distanza dal percorso, ma posso anche dire, io voglio mediamente stare sul percorso e non mi interessa se tu, per pochi secondi, sei a 30 cm dal percorso. Guardate che sono due richieste molto diverse tra di loro, una è puntuale, una è integrale, ok? E quindi, magari, un controllore può essere più adatto per una delle due, un controllore per una delle altre, oppure lo stesso controllore mi ha tarato in maniera diversa. Io posso penalizzare l'energia, ricordate, in teoria dei sistemi, quando abbiamo fatto i segni di model predictive control, vi ho detto questo è un problema di ottimizzazione in cui voi avete i pesi sul sforzo di controllo e sull'errore. Quindi io posso veramente desiderare di controllare l'energia, perché? Perché un drone ha un'autonomia di 15 minuti, più o meno 20 minuti. Uno dei motivi per cui ancora non si vedono droni per applicazioni che non siano le foto ai matrimoni è perché dura poco l'autonomia del drone, per cui fa poco, lo usate in maniera commerciale per cosa? Boh, non bene. In teoria per tante cose, ma in pratica si scarica subito. Non c'è proprio una metrica analitica puntuale se già la vostra richiesta di controllo è fanzi, cioè è sfumata, non bene? Perché, come vi ho detto prima, la porta è, diciamo, chiusa o aperta dipende da cosa deve fare la porta. Se io devo solamente far passare un poco d'aria, allora 10-15 gradi è già aperta, ma se io devo far passare un tavolo, la devo aprire oltre i 90 gradi. Se deve passare il gatto basta che sia aperta un pochino, cioè dipende dall'applicazione, dipende, diciamo, dall'applicazione. È già sfumata di per sé. Ok? Altre cose sono veramente difficili da quantificare. Se io vi dico che il vostro robot deve fare, per esempio, walking, quindi deve camminare, deve essere robusto alle cambiamenti ambientali. Allora, che significa i cambiamenti ambientali dell'ambiente circostante? Per esempio il vento. Ok? Ok, quant'è la massima raffica di vento a cui deve sopportare? Chi lo dice? Chi lo sa? Non è facile. Ok? L'incertezza di modello. Beh, ritorniamo al fatto che io faccio un modello, faccio l'identificazione, ci metto dei numeretti, come abbiamo visto, l'identificazione dei parametri, non saranno mai precisi quei numeri. E allora io dico, voglio che tu mi fai il tuo controllore, che però funzioni anche se il modello non è perfetto. Ma che vuol dire? Boh, io ho 70 parametri di unità di misura diverse tra di loro. Allora, che cosa significa che il mio controllore sia o meno robusto al fatto che io non conosca bene quei parametri. Guardate, non ha neanche senso dire che i parametri sono noti al 10%, perché alcuni sono noti al 99,9%, per esempio, vuol dire, se io ho un parametro che ne so, è la lunghezza di un braccio del robot, ma quello è noto fino veramente a più che il millimetro. Ma se vi chiedo il parametro dell'attrito, l'attrito già è un'approssimazione di modello, il fatto che io utilizzi, diciamo, quell'equazione dell'attrito. Dire che sia noto al 90% è già una riflessione. Per cui questo è assolutamente difficile da quantificare. Così come, robusto a che cosa? Beh, al fatto che io non ho messo nel modello qualcosa. Noi non metteremo nel nostro modello l'elasticità e, diciamo, l'elasticità delle trasmissioni o la flessibilità dei giunti. Quando voi avete una ruota dentata, la trasmissione è abbastanza rigida. Se avete delle cinghie, beh, le cinghie magari di, oppure diciamo delle trasmissioni di gomma, hanno una certa elasticità. E quella elasticità ha un contributo di modello? Sì, noi l'abbiamo completamente ignorato. In alcune situazioni può essere, diciamo, importante. Ok? Lo stesso braccio, vuol dire, non esiste un corpo rigido. Per cui, se il mio braccio è il manipolatore piccolo, compatto, allora va bene, è rigido. Ma se io devo cominciare a costruire un manipolatore con uno sovraccio di 4 metri e lo devo fare sottile perché non posso appesantirlo troppo dal punto di vista meccanico, beh, allora se vado a prendere un payload all'organo terminale, allora magari questo si flette dal punto di vista meccanico. Noi non abbiamo ignorato questo. Va bene? E continueremo a ignorarlo. I disturbi? Beh, prima forse, quando ho fatto l'esempio del vento, era in realtà un disturbo. Diciamo che i cambiamenti dell'ambiente possiamo immaginare, per esempio, il cambiamento della luce. Se il mio controllo ha bisogno di usare la telecamera, che è un sensore, cambia la luce, io devo essere robusto a questo. Invece qui posso pensare più all'esempio del vento. Va bene? Quindi ho fatto l'esempio del vento, un posto sbagliato. E beh, in effetti, a questo punto, dopo questa discussione, non vi stupirete se vi dico che effettivamente la validazione è un oggetto di ricerca. Cosa fare in robotica per validare è una cosa che prende delle discussioni. Vi faccio un esempio. se voi avete il vostro controllore, abbiamo detto che è quello che è, il controllore di fondamenti di sistemi dinamici, è facile fare la validazione. Ma se io vi dico che il vostro robot che deve coesistere con un operatore sulla scrivania, perché devono fare un lavoro in cui entrambi collaborano al lavoro, deve avere certe prestazioni. Allora c'è un operatore e come faccio a dire se è colpa del robot del controllore piuttosto che, diciamo, dell'operatore? Che cosa succede? Beh, succede che probabilmente una strada in cui si potrebbe dover andare è di validazione statistica, che è un po' quello che succede anche, diciamo, in tutte quante le scienze umane in cui, diciamo, c'è l'uomo per cui non si possono usare dei criteri numerici oggettivi. Ok? Quindi per esempio io devo fare una validazione statistica e devo prendere tanti operatori diversi, devo mettere a fare tante operazioni diverse e poi non avrò il 100%, chiaramente. Va bene? Quindi è una cosa abbastanza, abbastanza, diciamo, è abbastanza complessa e variegata. Ripetiamo questa parte della, diciamo, della terminologia. Quando parliamo di risoluzione noi parliamo essenzialmente della risoluzione dello strumento, quindi diciamo dei digit, cioè quanto può leggere uno strumento. Invece quando parliamo di precisione, che spesso è utilizzata come sinonimo di ripetibilità, noi abbiamo in mente il fatto che il robot ritorni nella stessa posizione ogni volta che gli chiedo di raggiungerla. Per cui se io, diciamo, faccio vedere questo disegno in alto a destra, se io dico al robot di raggiungere un certo punto, che per esempio è il centro di questo obiettivo, lui, in questo caso, in cinque esperimenti diversi, si classerizza tutto vicino a un altro punto, allora in questo caso si dice che ha comunque una buona precisione. Bene? Che però non è accurato, invece l'accuratezza è legata proprio all'errore assoluto. Per cui in questo caso noi abbiamo un robot che è preciso ma non accurato. Preciso è ripetibile. Ok? Poi possiamo essere più precisi e parlare di ripetibilità, e risoluzioni tutte insieme. Va bene? E questi sono alcuni concetti per cui io non sono un misurista. A volte, diciamo, posso, su questo posso fare, posso anche fare degli errori. Quando voi acquistate un robot, il concetto, diciamo, di precisione e accuratezza sono dei dati di target, cioè ve li dovrebbero dire almeno per quelli industriali. Perché ho detto almeno per quelli industriali? Perché effettivamente adesso, diciamo, noi abbiamo una grande, diciamo, una grande differenza dal punto di vista del controllo, della progettazione tra i robot industriali e robot avanzati. Questa differenza in alcuni punti, diciamo, si sta sottigliando. Ora li discuto un attimo per farvi capire voi cosa state facendo in questo corso. Bene. Allora, i robot industriali sono tipicamente caratterizzati da un'architettura di controllo cosiddetta chiusa. Cosa vuol dire che è chiusa? Vuol dire che io che vendo il robot non ho piacere a che tu, diciamo, lo apra per farci le tue cose. Mi devi chiedere se vuoi mettere un nuovo sensore, se vuoi fare qualcosa con un calcolatore. Per chi? Beh, perché tipicamente, diciamo, io ti vendo anche l'installazione personalizzata del robot, per cui se tu hai bisogno di un robot in una catena di montaggio per fare una certa cosa, chiedimi il pacchetto completo. Quindi io che costruisco i robot sono anche in grado di costruirti tutta l'isola, di interfacciarlo con dei nuovi sensori, con dei PC, con dei PLC, eccetera, eccetera. E te lo vendo chiuso. Non voglio neanche che tu ci metta le mani, perché se ci metti le mani poi abbiamo problemi con la garanzia. Bene. Quindi tipicamente... Poi questo cambia, perché poi alla fine voi avete, diciamo, degli accessi a delle informazioni. È cambiato nel corso degli anni, ok? Quando io, diciamo, ho fatto la tesi di laurea, il robot che abbiamo utilizzato, che era industriale, ha richiesto un lavoro che era stato fatto, diciamo, prima che io arrivassi, per interfacciarlo con un normale PC. Il normale PC era un desktop con Windows 3. qualcosa e noi dovevamo controllarlo sotto DOS e interfacciarlo con delle schede appositamente progettate, per parlare con l'elettronica del robot iniziale. Non era proprio pensato, però sono passati vent'anni, per cui le cose da questo punto di vista sono cambiate. Anche questa, la singolarità cinematica, quando noi abbiamo avuto a che fare con, diciamo, i produttori di robot, ci siamo resi conto che le singolarità cinematiche per loro erano qualcosa di molto simile a un evento, diciamo, climatico, no? Che può succedere, non so cosa farci. E loro, quando incontravano la singolarità, vedevano cosa potevano, come potevano affrontarla. Non c'era un approccio, come dire, analitico completo. La ridondanza poteva o meno essere usata, ma tipicamente non così bene come si può fare conoscendo la potevano. I robot industriali sono tipicamente pesanti. Ora, avete visto alcune foto, vi ho fatto vedere, diciamo, alcuni video. I robot che sono una catena di montaggio, per esempio, nella industria automobilistica, sono robot che devono fare un lavoro, diciamo, 24 ore su 24, pesante. E la loro struttura meccanica deve essere stata progettata per, per esempio, per spostare un motore di 150 kg da una parte all'altra, per usare delle saldatrici che da sole pesano svariate decine di chili e hanno dei momenti, hanno delle inerzie molto alte perché sono molto lunghe e così via. Per cui sono oggetti, diciamo, pesanti. I controllori implementati, anche questa è una cosa che adesso è sempre meno vera, ma i controllori implementati, quando io ho cominciato a interagire con il gruppo, diciamo, Cassino Napoli con Comau, loro avevano dei controllori che erano delle varianti del PD. Quello che vedremo oggi, indipendenti ai giunti, è che noi non faremo neanche in simulazione, va bene? Ma loro avevano dei controllori molto semplici. Infatti, diciamo, quando noi facciamo, stiamo parlando del 2002, qualcosa del genere, ci chiesero una consulenza per implementare il primo controllo con la conoscenza del modello, adesso la descrizione nasce così, perché poi lo faremo nei prossimi giorni, perché loro avevano un PD e loro dicono, per vedere se funziona questo modello, noi ti diamo un ciclo di saldature tipico che noi facciamo, lo facciamo in 60 secondi, perché in 60 secondi? Perché ogni volta ci dobbiamo spostare da un punto di saldatura all'altro, prima di fare la saldatura, noi dobbiamo aspettare che siano terminate le oscillazioni, perché se ci sono ancora oscillazioni, il robot poi non può saldare. Quindi questo significa che noi ci muoviamo, poi aspettiamo la fine delle oscillazioni, poi facciamo la saldatura e ci spostiamo a quello dopo. Per cui questo ciclo di saldature che dura 60 secondi, in realtà potrebbe essere abbassato a 40 secondi se noi fossimo in grado di ridurre le oscillazioni. Quindi era un problema puramente di controllo, perché dovevano progettare un controllore che avesse un transitorio più veloce con oscillazioni più basse. E le loro validazioni è stata esattamente, va bene, portate da 60 a 40 secondi il tempo, e vuol dire che voi avete fatto un buon controllore. Quindi non hanno parlato di bande, non hanno parlato di nulla, hanno parlato direttamente nell'applicazione. E in quel caso noi cominciamo a implementare una fase di identificazione, quindi abbiamo fatto un modello di identificazione e poi un modello di identificazione e poi la validazione, cioè il progetto del controllore. Che poi verso, nella nuova generazione di controllori, che era verso fine del 2005 al 2010, adesso non ricordo esattamente, entrarono in commercio. Quindi loro li hanno messi, poi li hanno messi in commercio. Ci sono, diciamo, problemi di, soprattutto di attrito statico, quando la vostra struttura è pesante, è anche soggetta a una presenza di attrito statico imponente e fastidiosa. E vabbè, il backlash dipende dalla trasmissione. E poi, beh, che cosa vuol dire undesired compliance? Allora la compliance è, diciamo, la cedibilità, cioè, se io muovo, questo lo vedremo soprattutto il controllo dell'interazione, se il mio robot è fermo, così, e io con la mano vado e, diciamo, lo spingo, non si deve muovere. In un contesto industriale io voglio che il mio robot sia veramente reietti qualsiasi tipo di disturbo, cioè, io mi appoggio al robot, anche se col mio corpo, non mi appoggio con tutto il peso, lui non si deve muovere. Ok? Questa è la richiesta dell'ambiente industriale. Questa è la richiesta quando noi abbiamo un robot cosiddetto rigido. L'inverso è che se il suo robot sta facendo il suo bravo movimento e io mi trovo nella traiettoria e il robot mi reietta, che vuol dire che, diciamo, non è assolutamente cedevole e può fare dei danni, evidentemente. Noi lo vogliamo rigido, il robot industriale, quindi qualsiasi tipo di cedevolezza non è voluta ed è tipicamente dovuta alla flessibilità delle trasmissioni. Ok? Quindi queste sono un po' le caratteristiche dei robot industriali. Ora, dagli ultimi, diciamo, dieci anni, quando è arrivato sul mercato il lightweight, che è stato commercializzato dalla Cuca e sviluppato insieme al DLR, che è un centro di ricerca tedesco che è molto avanzato nell'ambito della robotica, poi la Cuca dopo è stata acquistata da una proprietà cinese. Oggi loro hanno cominciato con questo robot cosiddetto lightweight, con delle caratteristiche che capiremo e che poi sono state in qualche modo anche prese da altre progettazioni, fra cui quello che noi abbiamo in laboratorio, con il IAPO2 e il Kinova, è della famiglia dei lightweight. Allora, quali sono le caratteristiche dei robot cosiddetti avanzati? Prima di tutto sono aperti. Aperti significa che tipicamente se io voglio fare un robot per applicazioni avanzate, che cosa faccio? Vendo delle librerie di funzioni piuttosto che vendere un'architettura chiusa. Io dico, guarda, tu puoi accedere ai sensori così, puoi scrivere ai motori così, puoi magari ti do lo jacobbiano, ti do delle generazioni di traiettoria semplici, perché io so che tu ci devi lavorare. Quindi l'energia che un produttore di robot industriali dedica a fare anche un'interfaccia che sia utilizzabile da un operatore che non ha fatto un corso di robotica, non viene spesa da chi fa un robot avanzato, loro preferiscono, diciamo, si stanno dedicando a un tipo di utenza diversa, che tipicamente vuole giocare col robot. Quindi lo danno che sia possibile, che sia facilmente interfacciabile. Allo stesso modo, diciamo, io so che ci sono le singolarità cinematiche, lo Yaku 2 è pieno di singolarità cinematiche, me ne frego, perché io ti do un robot che tu devi usare per i tuoi giochi. Se vuoi, magari ti faccio un'app di inversa, stai impesata, smorzata, ti faccio qualcosina di basilare che però so che tu non utilizzerai perché tu sei un nerd e ci vuoi giocare tu. Ovviamente la ridondanza la usa l'utente e poi c'è questo concetto della struttura che è lightweight. Ora, che vuol dire lightweight? Il peso da cosa dipende? Beh, ovviamente il peso dipende dall'applicazione. Posso avere un robot industriale di 10 kg, posso avere un robot lightweight di 10 kg. In realtà, diciamo, ci sa un aspetto che è legato al rapporto fra il payload e il robot. Cioè, nel senso, io in genere so che devo movimentare qualcosa, so qual è il peso di questa cosa che devo movimentare e quindi scelgo un robot che sia in grado di movimentare quella cosa. E lo voglio il più leggero possibile. Va bene? Perché chiaramente se devo muovere, diciamo, dei pacchetti di 100 grammi e compro un robot che ho colto alla stanza, sto facendo chiaramente una scienza. Il robot leggero, pensate per esempio lo iaco, lo iaco è 6 kg. Lo staccate, ve lo portate e andate. Lutta l'elettronica è nei giunti. Si paga da altri, diciamo, aspetti il fatto che sia così leggero. Il lightweight, la famiglia, diciamo, della cuca, che prima si chiamava lightweight e poi adesso si chiama Iwa, è invece un po' più pesante, perché è pensato per stare sulla scrivania, mentre lo iaco 2 è proprio pensato per stare sull'applicazione con cui l'hanno messo sul mercato per una carrossella per disabili. Per cui tutta l'elettronica è là dentro. Voi avete due fili che escono a iaco 2. Uno va, diciamo, uno è l'alimentazione e uno va al calcolatore, punto. E tutto quanto all'interno del genere. Ok? I controllori, vabbè, sono avanzati, li fa l'utente, per quello sono avanzati, perché abbiamo detto che, diciamo, così. E la cedevolezza del nostro robot, in questo caso invece è voluta. Cosa vuol dire è voluta? Beh, se voi prendete il iaco 2, lo iaco 2 lo lanciate a massima velocità contro di voi, che è una cosa, diciamo, tendenzialmente stupida, però, diciamo, non vi fa troppo male. Perché? Perché la quantità di moto del robot è bassa, perché la massa è piccola, perché la velocità che può raggiungere è, diciamo, è bassa. Quindi la sua energia cinetica che vi trasferisce con l'impatto è bassa. Però è anche stato progettato, o comunque per le trasmissioni personalmente hanno aggiunti, per essere cedevole. Per cui, cedevole significa che in qualche modo ci sta una parte di flessibilità che assorbe una parte dell'urto. Per cui, in alcuni casi, per motivi costruttivi, in altri, perché noi progetteremo dei controllori che, in caso di impatto, cedono. Questo è, diciamo, una cosa che facciamo vedere durante la visita in laboratorio, se possiamo, diciamo, farla prima della fine del corso, la facciamo. E vi farò vedere che noi possiamo progettare quanto cedevole vogliamo il nostro robot. Vuol dire che se il robot è fermo, io lo tocco, lui, diciamo, a seconda del mio movimento. Poi lo lascio e lui ritorna nella tua posizione. E posso decidere io quanto renderlo cedevole. Va bene? Con il controllo, con un buon progetto del controllore. Quindi, diciamo, questa ampia introduzione ci porta a vedere un po' quello che noi faremo oggi. Oggi e le prossime lezioni. Noi studieremo un po' il controllo del moto. Oggi è diviso in due grandi famiglie, che sono spazio giunto e spazio operativo. Ora facciamo una piccola pausa e poi dopo, diciamo, vi faccio vedere quali sono le differenze. Poi oggi noi ci fermiamo al cosiddetto controllo decentralizzato. Noi non faremo esercitazioni sul controllo decentralizzato. E poi, invece, dedicheremo le prossime due lezioni a delle cose un po' più divertenti, che sono il controllo, in questo caso uno spazio aggiunto centralizzato. Vedremo che cosa significa. Va bene? Ovviamente ancora non ve l'ho detto. E un altro po' poi, però alla fine parleremo anche del controllo nello cosiddetto spazio operativo. Va bene? Allora, ho fatto una chiacchierata molto, molto, diciamo, ad alto livello. Per cui, se avete domande... ... ... ... ...